Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro tutorial riguardante una skill che secondo me vi farà fare la differenza. Io la trovo molto molto utile, oltre che molto spettacolare in alcune situazioni. Come al solito ci andiamo a vedere il suo funzionamento in game e in più andiamo a vedere anche quelle che sono delle clip che ho registrato per farvi vedere che la skill effettivamente funziona e in quali contesti. Quindi la bellezza di questa skill è non solo estetica ma è proprio funzionale perché infatti le clip che ho registrato sono state registrate non a caso contro pro e non in partite in weekend league dove magari spesso vedete gol mirabolanti fatti a caso wow wow. No, sono partite contro pro anche molto tirate ma con quella skill che se fatta al punto giusto vi va effettivamente a portare un grande vantaggio. Quindi, rapido cambio di scena e andiamo immediatamente sulla play dove abbiamo anche il pad collegato e quindi andiamo a vedere come performare questa skill. La skill della quale sto parlando, come avete letto anche dal titolo, è il cosiddetto sombrero flick. Sombrero flick che magari voi insomma vi immaginate il sombrero semplicemente questo palleggiando wow fate il sombrero. No, il sombrero flick è tutt'altro. Conoscete tutti quanti il tacco tacco no? Si fa così, avanti dietro in base alla direzione nella quale state andando. Semplicissimo. Praticamente il sombrero flick si fa andando a fare una sorta di tacco tacco ma invece di fare avanti dietro dovete fare semplicemente avanti avanti dietro e viene una skill molto spettacolare che vi permette di disorientare gli avversari. Ovviamente in base alla posizione qua farete avanti avanti dietro, in quest'altra posizione farete destra destra sinistra che poi in base al giocatore è sempre un avanti avanti dietro però è per farvi capire bene o male da tutte le angolazioni come funziona questa skill. Ok? E voi mi dite, sì, ma sta cosa non serve a un cacchio, cioè è solamente figa da vedere e a che te ne fai? No, invece te ne fai. Perché ipotizzate il caso in cui, poi andrete a vedere anche nelle clip, voi magari ricevete palla così spalle alla porta, avete il difensore dietro, il difensore sta uscendo a marcarvi, voi ve ne accorgete, sombrero flick, lo scavalcate, tirate di prima intenzione e il tiro che ne viene fuori è sempre un tiro che dopo la skill va sempre in porta perché i tiri fatti dopo la skill hanno sempre questo boost della precisione. Anche in questo caso magari ci troviamo in una posizione un po' più defilata, arriva il giocatore, noi ci vogliamo accentrare, aspettate l'ho trollata, noi ci vogliamo accentrare, poi la palla ci rimane a disposizione e calciamo. Quindi per me è una skill che vi ripeto, oltre a essere molto 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 bella, è anche molto molto funzionale. Le situazioni nelle quali dobbiamo andare a utilizzarla sono le seguenti, vedete, palla così, all'indietro, vi girate col difensore che arriva e calciate al volo. Principalmente va utilizzata secondo me in una porzione di campo che è questa, ossia al limite dell'aria, in maniera tale che quando andate a effettuare il sombrero flick poi vi trovate in area e potete concludere. Quindi questo è lo scenario base. Io adesso vi lascio alle due clip che ho registrato contro pro e di conseguenza contro scappati di casa. Vi faccio vedere che funziona anche contro avversari di livello e non solo per fare fighetti contro quando beccate i scappati di casa di turno. Vi ricordo che ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma Viola, tutte le info in descrizione. Vi ricordo di lasciare un like e un commento che mi servono. Iscrivetevi al canale perché cresciamo bene e sono stra felice. E nulla ragazzi, io vi saluto, mi raccomando fate bravi, vi lascio alle clip. Ciao! Grazie!